Se volete acquistare i crediti di FIFA andate nei link in descrizione fifacredits.com Voglio fare una cosa diversa quindi Bene ragazzi noi siamo i Cananas e questa è diversissima E questa è un intro diversa Visto il successo del video delle cintate Bezzi le merda perché ho perso io per cui l'ho avuto successo il video Abbiamo deciso di pregare con un'altra sfida Cioè però non ho detto la parola Replicare con un'altra sfida Sarà peggio di quella precedente perché è peggio di quella precedente Perché questa volta abbiamo deciso di facci male E come abbiamo deciso di facci male Ogni gol una bevuta dal detesivo Vedo un indizio Questa è la sfida Sì però forse era piano Questa era piano questa era una sfinta reso Tipo così la tua vita ha capito? La pizza Ma pure spostata il cappello Ecco perché Porca pottana non metti da le pizze prima Perché erosico Va bene Vai E ogni gol è una pizza in faccia Ma forti Cioè proprio quelle che ti mandano al creatore Vai E la squadra stavolta non sarà random Perché non Certo Scegliamo noi Esattamente Vai PSG City Spam Vabbè Vai subito Pronti a perdere Oddio La Rezzi La Rezzi Entra dentro Chi c'è C'è Verratti C'è signora Verratti con quei gristoni Tiravo i gristoni Sbam Iovedic di testa la prende Incredibile Aguero Lo manda Iovedic No eh E' lentissimo No eh Iovedic però la prende Il tiro Oddio Oddio Molto tesa questa mattina Mamma mia La tensione La tensione è palpabile Conoce ho più voci No 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 Perchè cazzola è andata dal lungo Grazie signore Grazie Grazie Ma tu ti 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 Oddio Che pressione Ibra Ibra Non va No no Bello lo vede a David Silva 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 lo mette in mezzo Periovedic Il tiro Fai Dai che lo fai Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì a me quasi mi dispiace da chi ha la pizza però ha voluto lui madonna io l'ammazzo e l'ho preso pure male mamma verrati i corni sì che cazzo fate mamma mia arrabbiatissimo daryl in mezzo a due bam il tiro ancora ci va oh caccio d'angolo baffanculo cavani ma bello questo è bello baffan dai pesa bene guarda che culo eh fino al primo tempo non vedi un culo rovio vai se ti stai fermo vado io per te ok vai vai guarda notta notta ancora devi finire il gioco a pipa 13 cazzo oh oh come cazzo ha questa sta palla grigore ma dai ma dove ma che cazzo è mamma mia se lo faccio vieni qui pezzo di merda vai arrivate il tuo pappello mamma mia carico anzi senti qua il tuo pappello è qua vai eh mi sono caricato sono carico ah che pizzo ahiaiaiaia ha dovuto segnare i ricordi sta fermando la mano con il tuo pappello oh ibra ibra il tiro ma non oddio ibra distruggiamoli distruggiamoli ma io da prima mezzo mi ho fatto un cattivino ma ti sentite la mia in basso il cuore ecco pazzo oddio che culo ma che culo rotto bello in mezzo il tiro al volo oddio no no si è fermato no che cazzo ha preso come l'ha presa qualche città di supplementare in caso no agguero 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 oh 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 al novantesimo oh oh qualche città di supplementare in caso ah che bello non c'è cosa più bella che segnare al novantesimo e dover dare una pizza ah sputate 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 sulla mano va tenerezza vai uno due e in tutto ciò in tutto ciò in tutto ciò e in tutto ciò è il novantesimo forse è il fine della partita forse in tutto ciò vedi che fa una brutta fine finisce qui la partita 2 a 1 Zeni che vince e prende per vincere la galli cintate presa bene vi raccomando ragazzi lasciate un like per tante pizze non un like non un like 800 ne vogliamo un like o meno quindi c'è vedete il video in tanti la cosa importante la cosa importante è la cosa importante passate in descrizione perché sta la pagina facebook molti di voi magari sono arrivati da posto come iscritti sul canale quindi iscrivetevi alla pagina facebook anche perché questa sfida l'abbiamo presa dai commenti sulla pagina facebook e in media capite che se faremo un'altra sfida la potremo prendere la vostra e quindi dovete più schiacci magari altre cose detto questo noi ci becchiamo alla prossima mi raccomando like 800 e c'è stata la prossima sfida pagina facebook in descrizione c'è stato appunto quello che vi detende ci vediamo alla prossima sfida bella